buona giornata amici di fano tv oggi è mercoledì 30 novembre e 2022 e questa è la rassegna stampa iniziamo insieme la giornata leggendo i giornali il resto del carlino e il corriere adriatico oggi concludiamo il mese di novembre domani inizieremo quello di dicembre dove saranno ancora più pregnanti le atmosfere natalizie la città tutte le città devo dire hanno acceso quasi i loro alberi di natale insomma si sta movimentando il commercio è anche un'atmosfera un pochino più così più piacifica rispetto agli avvenimenti che sono accaduti nei giorni scorsi dunque oggi vediamo qual è il santo del giorno ed è un santo particolare un santo importante santa andrea molti si chiamano andrea ancora oggi santa andrea è uno dei dodici apostoli di gesù era fratello di san pietro dopo la morte di gesù andò a predicare in giro per diversi paesi andò in frigia e piro traccia giunto a patrasso in acaia fu incarcerato dal console romano egea e crocifisso scusate su una croce piantata ad x che da allora fu detta croce di santa andrea insomma la vediamo la vediamo la vediamo la croce di santa andrea nei passaggi ferroviari che erano incostuditi ormai non li vediamo più perché non ce ne sono più di questi passaggi e vediamo anche le previsioni del tempo il sole questa mattina solgerà alle 7 20 e tramonterà alle 16 e 32 il tempo è variabile ci sono nubi in progressivo aumento con deboli piogge nel pomeriggio i venti saranno al mattino tesi da nord e nord ovest al pomeriggio sempre tesi da nord il mare è mosso le temperature oscilleranno dai 7 gradi che è la minima agli 11 gradi che è la massima ed ora apriamo i giornali ma non prima di aver dato un'occhiata ad un'immagine particolare è quella di piazza 20 settembre di Fano eccola le luci sono accese ancora non c'è movimento è comunque uno dei pochi mercati che ancora si svolgono nel centro nel cuore di una città piazza 20 settembre ospita due mercati alla settimana il mercoledì e il sabato e di questo se ne avvantaggiano anche i negozi a posto fisso perché il mercato cittadino attira tanta gente tanta gente non solo dalla città dalla periferia ma anche dall'entroterra ed ora apriamo veramente i giornali vediamo la prima pagina del Corriere Adriatico eccola vediamo che c'è un rientro c'è una notizia nuova per quanto riguarda il femminicidio di Anastasia l'omicida non ha più la potestà il figlio di Anastasia con la nonna è stata una sentenza del giudice ora il padre non può più decidere nulla nei confronti del figlioletto di due anni e mezzo si chiama Adam è stata accolta la richiesta della procura del tribunale dei minorenni di Ancona ora il tribunale valuterà se la signora Elina cioè la mamma di Anastasia la nonna quindi del bambino potrà avere l'affido definitivo è stata revocata sulla richiesta della procura della Repubblica di Pesaro la patria potestà genitoriale a Mustafa Alasheri il 42enne di origine egiziana accusato di omicidio volontario nei confronti della moglie Anastasia di 23 anni profuga ucraina con cui si era stabilito a Fano lo scorso marzo la decisione mette un punto pesante ormai sulla questione dell'affidamento temporaneo l'affidamento ora è stato dato in via così temporanea alla famiglia Carloni ora il giudice dovrà decidere se restituire definitivamente anche dal punto di vista legale il bambino alla nonna la quale ha intenzione di tornare in Ucraina nella cittadina di Usrod che al momento per fortuna è al di fuori della guerra quindi la situazione lì è pacifica almeno in senso precario ovviamente però insomma al momento non vi sono pericoli vedremo domani se la nonna otterrà ma credo che ormai la decisione sia inevitabile l'affido del piccolo Adam un articolo a fondo pagina sul Corriere Adriatico enuncia ancora gli avvenimenti che sono stati organizzati dall'amministrazione comunale in modo particolare dall'assessorato alle pari opportunità di Sara Cucchiarini in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne ci sono diverse iniziative in una serie che è stata definita che è stata chiamata il colore del rispetto e il rispetto la parola decisiva che si deve enunciare nei confronti delle donne rispetto vuol dire non infierire né fisicamente né psicologicamente in maniera provocatoria, in maniera autoritaria nei confronti dell'altro sesso e vediamo le iniziative oggi alle ore 17.30 alla Mediateca Montanari ci sarà un convegno donne e salute mentali della sezione fanese del CIF venerdì alle 17.00 al Pari Centro seguiranno letture animate da parte di Clio Gaudenzi a cura di Africa Chiama e della Fondazione Vanda di Ferdinando domenica alle 11.00 al Cubo di San Lazzaro verrà allestito uno spettacolo teatrale lo specchio dei tempi dell'associazione Giunone e intanto si vede come il Pari Centro ha compiuto un anno di attività un anno particolarmente proficuo di iniziative ebbene vediamo l'attività di Pari Centro che è dotato di otto sportelli gratuiti una collezione libraria specializzata in pari opportunità e diritti e poi sono state qui allestite sette mostre e qui poi si riuniscono anche tante associazioni scuole e singoli cittadini che hanno bisogno di un consiglio infatti ci sono anche servizi di consulenza sia dal punto di vista legale che dal punto di vista psicologico e poi abbiamo una bella iniziativa che è stata attuata dall'associazione Cante di Montevecchio la quale ha affisso una targa all'ingresso della sua sede in Via Palazzi si tratta di un pannello commemorativo in memoria di tutte le 50 vittime del 2022 inoltre il Cante di Montevecchio è il referente per la Regione Marche del progetto Airone che si occupa in particolare dei bambini orfani di femminicidio anche loro sono le vittime anzi direi che sono una delle vittime più importanti sono quelli che sono più da tutelare in occasione di questi atroci reati che vengono compiuti nei confronti delle donne abbiamo anche un'iniziativa del Sor Optimist che fino al 10 dicembre ha realizzato una opera di sensibilizzazione attraverso manifesti e volantini di colore arancione appunto contro la violenza delle donne una bella iniziativa invece del Don Orione che ospita un corso di specializzazione per saldatori saldatori è uno dei mestieri più richiesti e al tempo stesso meno praticati le ditte hanno bisogno di saldatori ma non c'è chi ha una professionalità su questo mestiere e allora che cosa si fa? dietro le richieste c'è stata l'agenzia Sinergie Italia SPA che in collaborazione con la cooperativa Labirinto ha organizzato un corso di specializzazione che è stato ospitato all'istituto professionale Don Orione ebbene questo è stato frequentato pensate era aperto a tutti ma non c'è stato alcun italiano che ha avuto così l'intenzione di praticare questo corso corso invece praticato da molti extracomunitari che sono giunti in Italia da tanti tanti paesi vediamo che sono giunti dal Pakistan dalla Nigeria, dal Mali, dalla Somalia dal Bangladesh e anche da altri paesi sono persone, sono ragazzi che con il lavoro hanno avuto anche l'occasione di integrarsi nella nostra comunità e le ditte ce ne sono 15 che sono in attesa proprio di fare dei colloqui per assumere questa forza lavoro quindi un'occasione importante perché il lavoro poi dà la possibilità a questi ragazzi di inserirsi maggiormente di integrarsi nel nostro territorio qui nessuno vuole più fare il saldatore alla Don Orione diplomati solo stranieri dice il titolo passiamo qui all'aeroporto di Fano all'aeroporto di Fano c'è un ragazzo che ha 17 anni e ha conseguito il prevetto di pilota ebbene non può guidare la macchina ma può guidare un aereo Riccardo tocca il cielo con un dito è l'aviatore più giovane di sempre dice il titolo neopilota a 17 anni ed è un record per la Eagle Academy la mamma paura di più quando gira in bici ha detto la mamma ebbene non è ancora la patente al motorino preferisce la bicicletta e al diploma all'ITIS di Ancona ci penserà nel 2024 ancora deve conquistare la maturità ma Riccardo Ferri fanese doc è già un pilota d'aereo un record per la Eagle Aviation Academy di Fano che è una scuola di formazione per i piloti i professionisti e probabilmente un primato anche a livello nazionale insomma non si ha notizia di giovani più giovani che hanno avuto il brevetto ebbene un bel articolo questo che dimostra come l'aeroporto di Fano è un centro ancora vitale nonostante che non venga valorizzato in maniera appropriata in modo particolare all'Accademy Fanese in media vengono conseguiti 15 brevetti all'anno per diventare poi piloti professionisti si deve anche superare l'esame fisico attitudinale a medicina aerospaziale da Fano sono usciti attuali piloti di linea della Ryanair Wingsair Air Dolomiti e ITA un ufficiale di volo di prima nomina solitamente non guadagna poco guadagna 2.500 euro al mese insomma una opportunità da cogliere veramente al volo conclude il Corriere Adriatico conclude così Gianluca Murgia e ora passiamo a Fossombrone vediamo un articolo a fondo pagina Baby Gang più sicurezza e forze dell'ordine Assise Comunale mozione di Manocchi Luzzi e Londei coinvolgere i parlamentari ebbene a Fossombrone c'è un problema di ordine pubblico causato non da una delinquenza consolidata da una delinquenza di alto rango sono delle Baby Gang ma non sono meno pericolose a seguito di pesanti incursioni ai danni di minorenni di una Baby Gang a Fossombrone i consiglieri di minoranza che ho appena detto hanno presentato una mozione inerente alla sicurezza e al potenziamento delle forze dell'ordine quel potenziamento che un po' si richiede in tutti i centri lo si chiede a Fano lo si chiede a Pesaro perché l'organico sia del commissariato che dei carabinieri è sotto ordine è insufficiente e in realtà si fa un organico e poi non viene rispettato per quanto riguarda San Lorenzo in campo siamo su un'altra pagina vediamo che ci sono nuovi investimenti le ha annunciati il sindaco Davide Dell'Onti estetica e risparmio si può interventi per un milione di euro pubblica illuminazione a San Lorenzo in campo il sindaco illustra i lavori abbiamo recentemente concluso alcuni lavori di ammodernamento dei giardini pubblici di piazza giardini pubblici e in piazza 4 novembre dice il sindaco e poi abbiamo continuato l'opera di rendere omogenea l'illuminazione con quella di Viale Regina Margherita nella zona scolastica e poi c'è ancora altri sono ancora altri investimenti come quello della sostituzione di 4 teste palo intorno alla fontana dei giardini e al revamping dei pali con nuovi elementi a led ad alta efficienza e colori insomma si cerca di ottenere al tempo stesso più illuminazione ma anche più risparmio grazie alle nuove tecnologie vediamo anche la pagina di Senigallia dove si parla della colonia marina questo piccolo edificio che ora ha un futuro diventerà la nuova casa della vela è stata giudicata la federazione italiana vela lo stabile che era in abbandono sarà uno spazio di ricerca e di sviluppo agli sport nautici ed ora vediamo una notizia che riguarda la nostra regione in totale vediamo come ieri si è svolto in consiglio regionale una apertura di seduta tutta dedicata alla giornata contro la violenza sulle donne e c'è stato un resoconto da parte della presidente della commissione delle pari opportunità marialina vittorini vittime di femminicidio nel silenzio dell'auta un massacro senza fine la presidente della commissione pari opportunità ha letto i 15 nomi delle donne uccise la cronaca dell'orrore veramente una cronaca che fa rizzare insomma che fa venire insomma un sentimento veramente critico un sentimento critico un sentimento di orrore nei confronti di quanto è avvenuto la cronaca dell'orrore dal 2017 ad oggi passa una risoluzione più centri antiviolenza vengono richiesti ebbene qual è stato l'intervento di Maria Lina Vittorini e quando nell'aula consigliare della regione Marche sono risuonati i nomi delle vittime di femminicidio sono venuti anche alla luce i ricordi di come questi delitti sono avvenuti ebbene sono state ricordate la pittrice Renata Rapposelli che è stata strangolata con figlio ed ex marito che sono stati condannati e poi Maria Bianchi 84 anni uccisa a colpi di forbici proprio recentemente dal figlio a San Severino il 27 novembre scorso prima di lei non è stata risparmiata Anastasia Alasri la ragazza di Fano che è stata uccisa proprio il 14 novembre scorso appunto dal suo marito un massacro senza fine tra le vittime c'è anche Sabrina Malipiero Pesaro 14 luglio 2018 per il cui omicidio è stato condannato all'ergastolo un uomo che frequentava la sua casa e poi ancora Silvana Marchionni 75 anni Corva di Porto Sant'Elpidio 21 maggio 2018 uccisa dal marito Asca Riaz 19 anni morta a Morrovalle il 24 febbraio del 2018 Pamela Mastropietro fatta a pezzi a Macerata il 30 gennaio 2018 e poi ancora vediamo come in questo caso sia ancora in corso il processo ai danni del 32enne innocent Oseghede già condannato all'ergastolo per omicidio ma c'è ancora in corso la seduta alla Corte di Appello insomma vediamo come queste vittime di femminicidio costituiscono una sequenza che sembra di non avere mai fine giriamo pagina giriamo pagina e vediamo una realizzazione a Pesaro si parla di housing sociale ovvero di appartamenti che vengono dati a chi in questo momento si trova in difficoltà housing sociale nasce a Villa Cecolini il primo progetto per 82 famiglie a dicembre verrà pubblicato il bando per gli alloggi del comune a canone convenzionato si tratta dunque di nuovi edifici residenziali destinati a 82 famiglie con reddito medio-basso il progetto è rivolto a nuclei che non riescono a soddisfare con le loro entrate il loro bisogno abitativo sul mercato perché i prezzi sono particolarmente altri ma che allo stesso tempo non hanno i requisiti per ottenere una casa popolare si trovano in un limbo insomma non riescono ad accedere al mercato ma nemmeno alle più occasioni più facili più fruibili perché hanno un reddito che sta a mezza strada e allora proprio a loro verranno dedicati questi nuovi appartamenti si tratta di appartamenti per i quali verranno pagati degli affitti che non sono quelli di mercato ma non sono nemmeno quelli delle case popolari un affitto che è in sintonia con il loro reddito e qui vediamo l'assessore Mila della Dora che è vicino al cantiere di Villa Ceccolini e ora parliamo anche di case popolari e tempo di bagagli per tante famiglie perché dovranno lasciare i loro appartamenti che saranno ristrutturati dall'ERAP ed è l'assessore Morotti che invita a rispettare le modalità dei traslochi sono previsti anche incentivi vengono dati 1500 euro a queste famiglie per sopperire alle spese del trasloco e anche ovviamente a loro il comune mette a disposizione altri appartamenti per tutto il periodo in cui la vecchia casa sarà oggetto di lavori di ristrutturazione case popolari e tempo di bagagli gli inquilini devono collaborare per far sì poi di avere un nuovo appartamento un appartamento più qualificato quando i lavori saranno finiti ed ora diamo un'occhiata a quello che accade sotto il cavalca ferrovia dei Capuccini il cantiere nel sottopasso ma con un costo ritoccato al rialzo nella variazione al piano triennale delle opere pubbliche di Pesaro è stata approvata lunedì scorso in Consiglio Comunale un aggiornamento dell'importo che verrà impiegato per realizzare i lavori da 705 mila euro si passa a 745 mila euro un adeguamento coerrente ha detto l'assessore Riccardo Pozzi dovuto all'aumento dei costi delle materie prime insomma un aumento che è un po' caratterizzato in tutti i lavori pubblici a Rambla servono 6 milioni il comune va avanti coro di no dell'opposizione interrogate largo Aldo Moro la Rambla è quella strada che dovrebbe unire via Rossini a Pesaro fino alla palla di Pomodoro attraversando viale della Repubblica dove corre la statale 16 attraverso un sottopasso costa parecchio 6 milioni di euro e c'è una antitesi di pareri in città tra chi è favorevole e chi è contrario si alla proroga per i 200 precari ma varrà solamente per 4 mesi si parla di sanità la risposta tanto attesa è arrivata saranno prorogati i contratti di 200 operatori della sanità in forza all'area vasta numero 1 e a Marche Nord in scadenza il 31 dicembre questi lavoratori avevano manifestato sia a Pesaro che a Fano che a Urbino e finalmente l'azienda sanitaria ha prorogato questi contratti ma solo in via temporanea solo 4 mesi e quindi il problema non è affatto risolto ed ora parliamo anche del Bomba Day domenica prossima saranno molte le famiglie che saranno sgomberate per permettere a case bruciate di diseminare quella bomba di aereo che giace sotto il terreno da 70 anni da più di 70 anni a case bruciate nominate anche una coordinatrice per aiutare i residenti e ci saranno delle strutture c'è anche la vitifrigo arena che viene messa a disposizione di coloro che non sanno dove andare dovranno abbandonare le loro abitazioni dalle 8 fino alle 13 mi sembra e oltre fino alle 15 dalle 8 alle 15 quindi buona parte della giornata non potranno soggiornare nelle proprie abitazioni e quindi dovranno sgomberare e chi non ha appunto un posto dove andare verrà ospitato al vitifrigo arena ancora giriamo la pagina sul corriere adriatico vediamo che nelle terre del duca spiccano i licei sul podio il raffaello e il vannucci l'analisi di eduscopio promuove le scuole del montefeltro anche per chi cerca lavoro dopo il diploma quindi un titolo di merito per queste scuole vediamo la pagina di urbino sosta pagamento e discorario la scelta necessaria per il parcheggio De Angelis il parcheggio privato resta al servizio della città il sindaco Gambini affitto e riqualificazione da 50 mila euro costerà così i lavori che vengono realizzati ora apriamo il resto del Carlino vediamo la pagina di Fano che è dedicata all'aggiornamento sulla vicenda di Anastasia Anastasia rievocata la potestà al padre il console il console onorario d'Italia per l'Ucraina occidentale e Gianluca Sardelli che oggi lascia una intervista sul resto del Carlino il console ora il bimbo torni in Ucraina il tribunale dei minori di Ancona ha deciso il 42enne egiziano cioè il papà il padre diciamo meglio il papà è troppo affettuoso in questo caso diciamo il padre non ha più poteri sulla vita del figlio ora si valuta la capacità genitoriale di mamma Elina e zia d'aria da Leopoli appello per il rientro in patria e quindi questa vicenda che si avvia a conclusione qui abbiamo invece l'articolo che riguarda il fanese Riccardo Ferri che ha conseguito il brevetto di pilota a soli 17 anni si tratta del più giovane avviatore della storia dell'aeroporto fanese passione nata a 10 anni per questo ragazzo da medico in Afghanistan a saldatore la seconda vita di 14 rifugiati vengono da ogni parte del mondo non sanno ancora l'italiano lo sanno capiscono però insomma in via precaria ma hanno fatto una scommessa per il loro futuro grazie a questo corso saranno tutti assunti prima di Natale nessun italiano ha risposto all'avviso e sono i ragazzi in questa bella fotografia che hanno frequentato il corso per saldatori che è stato realizzato al Don Orione grazie a una collaborazione tra l'agenzia del lavoro e la cooperativa e la cooperativa labirinto l'agenzia del lavoro sinergie e appunto la cooperativa labirinto guardie mediche sarà un Natale in bianco a Mondolfo gli ambulatori sono sempre chiusi Pergole e Mondavio aprono a singhiozzo gentili passeremo le festività completamente scoperti ebbene per Mondolfo non sarà un periodo felice per quanto riguarda l'assistenza sanitaria sarà un periodo natalizio con un mese di dicembre senza guardia medica infatti dopo il ripristino temporaneo a settembre e ottobre grazie all'impiego dei medici specializzanti che poi hanno iniziato i corsi di formazione quindi non sono più disponibili a novembre il servizio non è mai stato erogato e altrettanto accadrà da domani fino al 13 dicembre quindi non c'è più questo servizio importante che dovrebbe essere fruibile quando il medico di base insomma di notte oppure finito l'orario di lavoro non è più disponibile è venuta meno anche la regola dell'incastro che garantiva una disponibilità alternata insomma il problema della guardia medica è un problema che ancora permane si chiude un anno di difficoltà di difficoltà che hanno reso difficile e precaria l'assistenza sanitaria nel territorio in modo particolare nell'entroterra ma anche nei capoluoghi della costa e veniamo ad Urbino Erdis il direttore Brincivalli lascia a fine anno l'ente regionale per il diritto allo studio va verso un nuovo assetto il rischio che non ci sia più una guida ambientale è proprio dietro l'angolo e con questa notizia noi chiudiamo la nostra rassegna stampa vi do appuntamento come sempre alle 7 di domani per le notizie del giorno alle 20 e 30 al Tg di Fano TV occhio alla notizia questo è tutto grazie per l'ascolto a risentirci